Non è paga, sa che la corsa sarà lunga, intanto però trova la prima vittoria in gara 1 di semifinale in casa dei campioni d'Italia di Civitanova. Una vittoria netta 3-0 per Trento che continua a tenere alta la testa dimostrando di essere in questo momento la vera squadra da battere. Cosa significa essere avanti 1-0 in questa serie? Secondo me questa è una serie a lunga, non possiamo dire adesso che abbiamo finito lavoro, abbiamo vinto solo prima partita e dobbiamo continuare a giocare bene per eventi che sono prima da nostre case e dopo torniamo qua. Senza il capitano Smaniguantorena con un apporto a singhiozzo di Ivan Zeiser la Trento mix di giovani ed esperti ha prevalso nettamente. Sì è un bel momento, ci stiamo divertendo sicuramente, abbiamo vinto gara 1, siamo felici ma questo non cambia molto sull'approccio delle partite che vogliamo avere, noi vogliamo essere sempre concentrati al massimo perché sappiamo che in queste partite appena cali un attimo di concentrazione può essere fatale. Lunedì di Pasquetta si replica a Trento, si gioca al meglio delle cinque gare, con Civitanova che avrà la bella eventuale in casa propria.